salve a tutti amici artisti oggi cominceremo la serie di ultimate spider man con me come sempre c'è daniele non perdiamoci in chiacchiere partiamo con il gioco ma volevo fare solamente una piccola precisazione visto che siamo due voracci non ci possiamo permettere l'ultimo spider man e quindi faremo come ho già detto ultimate spider man ok partiamo con il gioco non abbiamo scritto male mariano è scelto sì allora questo è l'intro vabbè la storia che più o meno riconosciamo rigorosamente in inglese così si capisce il pazzo e dici per si potesse il mio penso sia normale ma qua c'è il sigliote sì questo è il sigliote ecco ecco è il venom ah in pratica dice che poteva essere una cura per il cancro se è lavorata bene e invece hanno attivo ma come sempre succeva questa è parte di vedere dire ma non magari una cosa perché ci ho giocato ma penso che quello la la uccide a uscire perché ci ha dato la carta sbagliata la persona sbagliata anche se il signore vabbè come ne prometti di lavoro capisce infatti è diventato così e poi ma nel gioco c'è sì però non dire che non diventa la carta sbagliata poi si incazza è incazzato si va a incazzare nero diventa nero allora allora mo i pari spiego un attimo perché non ho mai giocato quindi adesso ok ciao allora vabbè ok più o meno i cammini non ho mai giocato mi prendi da qualcuno ci fare attenta che quando c'è il sito di ragnare devi scappar ah pietro quindi proprio noi poi registreremo... ah vai dove ti dice quello? posso già scappare? scappo! ciao! però ovviamente noi registriamo solo la storia quindi le missioni secondarie non le registriamo andiamo a seguire infatti avete le braccia di un abbracciare mamma braccia mortale mamma mia ecco adesso dobbiamo capire un attimo no no polizia polizia si chiade il venom vedo che si è fatta qua c'è la mary jane poi è mary jane e beh gli serve la tuta e se ce ne mi lavate la tuta ma con questo gioco io oggi ci gioco da playstation grigo un gioco del 2000 in questo gioco vecchissimo un po' datato ah però è fatto bene come no ok ha detto va a prendersi spararagnatele mai che ho detto una volta buona la prima no non esiste buona la seconda o terza buona la seconda forse spararagnatele guarda come è pagato se le mette sulla giacca giaccaragnatele 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 ok salti e clicchi quei due insieme bravo così lo si fai prima quando ti capitano questi messaggi clicca uno così che poi sempre perchè noi siamo molto ricchi abbiamo ancora il controller di una play di una quindi quella laura che io a pagu è fatta ancora di legno nella città pronti è fatta la carriera regnatela ah ah fa bravo comunque è cosa bella che il registratore ora lo hai registratore vai spettacolare non ti senti più potente Cioè ok, è bello essere comunque in Peter Parker e giocare come Peter Parker, è bello. Però è sì come c'è. Devi cliccare questo qua. Però quando vedi che ti stai a caricare i cosi, che questo è Shocker. Herman Shocker. Aspetta. Ah, ecco qua, vedi. Ah, tu devi aspettare che fa quella cosa. Ah. Eh, è una cacata a sconvincere lui. Eh beh. Vi devo praticamente impedire che c***o puoi. Vedi. Ma da botti c***o. Ecco qua è morto. Ciao, stronzo. Mmm. Dove mobilizzare praticamente. No, devi farlo prendere normalmente. Eh, perché vedi, ha... Eh, si è fulminato i c***o da solo. C***o. Ah, qua ci non la puoi stare questi coglioni. E poi sta p***nata di subito. Non ci voglio, chi sei? Ah, fa bene, ma. Ah, devi cliccare questa qua per ragnatelarli, perché sennò... Vedi, quando sta il segnalare te la devi ragnatelarli. Sennò si indigenano, ma vabbè, che fai. Uno, uno, due, tre. Allora, vai vicino a lei. Sì, ok? Eh, credirasi come una credita. Ma il papà una credita fa bene. E ora devi picchiare l'oro. Mi piace per starvi. Sarà più bello ancora alla fine quando dovrai piccare bene. Però non aspettare, perché sennò lo fanno, non si fanno. Eh, ho visto. Si è bloccato. Ok, non è. Eccoci qua, siamo riusciti a settare questo. La... E ora... Dobbiamo fare la gara contro Johnny Storm. Ma ricercalo di battere. Comunque ci va veloce. Ok, vai. E un po'. Oh, voilà. Ok. E poi, se vuole il problema, che questo coglione ogni tanto ti chiedevi, vuoi farti battere, poi si fa battere malattie. Ma io lo batto. E guarda. Ma però sta andando bene, mi vedo che ti sei allenato. A parte che sono passati 5 minuti, guarda, abbiamo perduto la registrazione, però impari presto. E sì, comunque se continui così ce la fai, perché così... C'è forza fa. Sì, perché se fai così... Fai prima. Invece esiste un modo, però noi dobbiamo fare tutto l'Egitto. E certo. Per prenderci i costumi... No, no, per prenderci i costumi prima, perché si sbloccano i costumi. No, abbe, facciamo molto legale. Perché, allora, noi in realtà ci abbiamo giocato, aspetta, prima di andare in vacanza. Sì, fine luglio. Eh, in due giorni abbiamo... Completato. Quattro di Electro, sennò non capiamo. Eh, mamma mia, che casino. Perché, allora, no, cioè, vabbè, nelle puntate future, dobbiamo... Dovremo... Dovremo fare il batterismo Electro. Eh, però non sapevamo... Cioè, io mi ricordavo perché sono... Eh, così, era complicato il fatto delle macchine. No, a parte, ma poi alla fine lui tipo diventa blu, si prende ancora più energia. Non sapevamo come sconfiggerlo. Mamma mia, qualcuno lo ha detto alle vado. Ok, se l'hai quasi fatta. Mi raccomando, non mu- non perdere... Yeeeeh. C'è fatta? C'è fatta? Sì, 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 vai, fai, 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 fai. A posto, hai vinto. Oh, lì. Mi hai battuto. Non ti spengo. Vedi, ha detto, ha detto, qualche volta lì facciamo le cose. Aspetta, swing, spingola, è tua. Ok, allora adesso in pratica dobbiamo fare i city goal, quindi volendo facciamo, facciamo che facciamo un taglio e facciamo l'ultima parte della serie, cioè della serie capilla di questo fumetto, perché quelli sono a fumetto. A fumetto, ok. Perché sono capitoli, non l'avevo mai, non l'avevo capito. Non avevo capitolo. E poi questi cosi tipo trasparenti che ora stiamo prendendo servono per i costumi, perché se io ora non lo sapevo. Non ho tolto, i 14 anni sono parecchi. Allora, è Peter Parker, il Peter Parker col cappuccio, cioè quindi col... Senza pure, mi pare? Eh sì, con la norma. Eh, pure senza, normale. Poi ci sta... Spider-Man Break? Eh, il simbionte, spatico al simbionte. Poi una, Spider-Man Wrestler, quindi senza le ragnatele, cioè senza le ragnatele sul costume. E poi c'è Arachnid, che è un co, è uno Spider-Man tipo tutto giallo e verde. Mmh. Che strano, come? Arachnid. L'unica cosa brutta di questo gioco, che secondo me, una volta che lo finisce è finito, cioè nel senso, un po' come tutti i giochi, però tipo, no, Spider-Man questo qua della PlayStation 4, una volta che è finito, sai comunque che usciranno i DLC perché usciranno. Ah, ti fa capire, c'è un seguito. A parte, ma poi, no, esco, no, ottobre qua, fino a ottobre, quindi fra poco, esco nel DLC di Gattanera. Mmh. Ok, hai capito? Ah, sei bene? E' continuato. Grande. All'epoca ci sono. Era il top, forse. Ah, sì, 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 sì. Bene, ti sei appena mangiato. Mangiato una persona. Gustosa. Allora, per fare i super salti devi cliccare... Ah, ci vediamo questo. Allora. Per saltarlo, per saltare questo, questo qua. Mmh. Poi, vabbè, per saltare normale questo, con questo fai il tentacolo. Ma sono cambiati contro le manoviglie, perché era più simile, ti ricordi? Eh, vabbè. No, no, è sempre stato così. Mmh. Vabbè, ma devi andare cammino dove ti indica la... Oh, lì, salti... Salti giganteschi, bellissimi. Eh, però, vai, ora, questo... Ah, per giocarti le persone... Per mangiarli? Oddio, per una di questi due da... Eh, questo qua, devi tenere pronto questo fin quando non fai il teschio. Sì, sì, finché se l'ho mangiata e l'ho mangiata. E che poi si rigina la barra della... Ah, devi mangiarti questo bimbo. Penso che io non mi ci darò il bollito giallo dopo che ho detto mangiamo il bambino. Mangiamo il bambino. Ma fai, sì, è che fa uno o no? Vai, mangi. Eh, no, voi non avete visto niente, bambini. Ok, io non mi banerà vita. Ok, vabbè, l'alice, l'alice. È morto. Mamma mia. La freccia è indicativa. Ci vado, ci vado. Ok. Ah, vabbè, poi devi arrabbicarti sempre con uno. Certo che il vetro che si rompe. Bam, bam, bam. Usa i tentacoli. Qua è sempre con due. Ah, lei. Non mangi proprio facciamo questo, ecco qua. Sì, perché noi gli immaginiamo le baracce. Mangialo tutti. Ehi. Se tu sei. Tu sei sempre inserita nel pacchetto? Ma per fare prima devi linciarli, capito? Devi cliccare quattro. Oh, lei. Perché il post di Facebook è la lagge. Sono Cristo, bello. Ecco, Cristo, Cristo, McBaggan. Cristo, McBaggan. Ah, c'è la rea. Penso ti sei un'ottima bloccata. Eh, ho visto l'abbraccato. Hai tentacola lì tu. L'hai appena ucciso. Tentacoli. C'è un'ottima bloccata. Sì, io sono morti da noi. C'è un'ottima bloccata. Non soddisfatta. C'è un'ottima bloccata. C'è un'ottima bloccata. C'è un'ottima bloccata. Mangio? E' frusta. Mangio e frusta. Ah, guarda, ora devi combattere contro Wolverine. Ah, sì, sì, mi ricordo. Ah, no, no. Questa è la moto. Si truggì la moto. Il rispetto. Bam. E' Wolverine. Stavolta veramente sia bellissima che puoi combattere contro Wolverine. Oh, my God. Tipo l'uomo che non ci interessa, non gli interessa niente. Boom. Già, piccolo stronzetto. Non è stato più piaciuto fare una parte con Wolverine, perché tu sei Wolverine. Ah, Wolverine. Non è stato più piaciuto, non è stato più piaciuto, non è stato più piaciuto. Sto stronzano di me. Credi, abbiamo già circa. Muori, muori. Muori, muori. Ah, e poi dopo per vendetta uccidi pure uno di questi due. E' proprio Dio e loro. E' perché uno non è pure vero. E' uno stronzore. E' giù, non giocarti a Wolverine, perché stanno ti fa male. Ah, ah, non posso volendo. Perché ti artifica. Infilza, eh. Ok, guarda. Aspetta. Ma qua sto facendo io perché non sappiamo quali comandi di come sfruggere. controller. BAM! Oh, oddio. Bellissima. Penso si sia fatto abbastanza male. Ma c'è un curista. Ah, mira quando se non lo picchi si inizia a rigenerare. No, no, lei non lo faccia per non lo picciare. Io penso che siamo già arrivati a dicevo. Perché da quando stiamo registrando? Abbattuto. Guardiamo che fa. Aiuto. Fermo lì. Fermo lì. Fermo lì in chiodo. Ho in chiodato. Siamo già a 10 minuti forse di più. Spero che questa prima puntata vi sia piaciuta. Se è così lasciate like, commentate e condividete il video. Lasciate like anche se già abbiamo detto prod. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi al canale e al prossimo video.